buongiorno oggi siamo 6 giugno 2021 niente tutto quello che che di cui ho parlato c'è nel senso senza parlare cioè scrivendo su facebook e perdentoria cioè è stata una cosa che ho fatto così di getto c'è nel senso senza decidere pensare mi è venuto spontaneo quindi se ho detto qualcosa in qualche altro video ci sono cose vere ce ne hanno le prove perché ero solo quindi se uno è libero di crederci o meno volevo fare tutte queste cose per 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 passare il tempo per divertirmi se poi è diventato qualcosa di importante un lavoro anche per qualcuno non lo so sono contento tante cose io non le decido perché sono video che non ho fatto io cioè nel senso io sono la teoria non riesco a fare il video io perché non ho la pratica quando neanche i mezzi poi non sono così esperto li capisco li vedo so anche che significa ma non li so fare uso il computer da quando è uscito windows 98 dal 1998 però per le le mie cose cioè non è che ho aperto un laboratorio dove li vendo un negozio oppure ho fatto la scuola ho fatto un corso regionale di come riparatore tv però non è la stessa cosa non è stata non è cosa che ho detto per entorio per entorio vuol dire una cosa che in pratica è una cosa forte una cosa che ha una certa energia un significato profondo e poi una cosa che non si ripete più quindi che significa che se l'ho fatto una volta non lo faccio più le foto che ho messo sono di davoli di soverato e di montepaone su altri profili che ho avuto in passato c'erano anche delle foto sacre che in pratica avevo messo per cercare di di pregare tutto qua nient'altro grazie grazie grazie